Secondo, eh? Bene, signori e signore, ben arrivate in questa ennesima notte horror. Stiamo per giocare The Stolt, una demo dai 15 ai 20 minuti. Mettetevi i comodi, prendete qualcosa da mangiare, andate a pisciare, andate a cagare e poi tornate. E godetevi il gioco. Ok, perfetto, ho letto tutto. Start. Si parte, soprattutto a cagare, quello è importante che poi... Buon salve, sad song. Dopo se fanno una disana, mentre se guardammo cosa, se guardammo Elisona, se fanno una disana, voi dico, ah, 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 state me, Garmini, proprio carini, Garmini. Ma che ora so, madonna raga, c'è un cazzo, sti lenti. Cioè, comodi, ma delle volte sfocano un po' la vista. Ok, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh, buonasera, buonasera, salve. Buonasera, grazie Tony. Ben arrivato, bello. Dio, 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 è buggato sto gioco già. Ah, allora ragazzi, questo è il mio home tour, questa è la mia casa. Preferivo farla a luce del giorno, sinceramente, però... Questa è la mia casa, questo è il salottino dove bevo il tè con le mie amiche, o con i miei gatti, dipende, più con i miei gatti che con le mie amiche. Questo è il cammino che mi sono messa dentro casa, quello che c'è a bambù. Alla fine ho comprato questo, non so se vi piace, insomma, se non vi piace fate voi vi piace. Questo è il mio piccolo terrazzo perimetrale, veramente discreto, insomma, accorre pure la signorina, meno male. Discreto, un terrazzino, una cosetta, insomma, giusto per i gatti. Oh, Dio, raga, fa impressione, vi giuro sembra il terrazzo di casa mia. Vi giuro, raga, cioè non è uguale, ma il terrazzo di casa mia sarà perimetrale così, vi giuro. Sarà così e poi una certa si allarga di là. I need to make some food I'm hungry. Ah, so proprio io, allora. Vabbè, ok, niente, vi voglio far vedere il mio terrazzino. In realtà questo è tutto stretto, non mi piace così, vedi? La cucina di qua, possiamo entrare? Possiamo entrare da qui? Ah, fantastico, lei apre il frigo da dietro, da dentro, da fuori al barcone, senza aprire la finestra. C'è una maga. Una maga. Fantastico. Bello questo, lo voglio mettere anche a casa mia. Che cos'è, un reggipalle? Carino, interessante. Dice che c'ha fama, mamma mia. Ok? Ok, bella casetta, vi piace? Vado a la raga, mi vedo l'ora di far vedere tutto, vi giuro. Che cazzo sei, questo è proprio il frigo mio, eh. C'è una salsa, un barattolo aperto scaduto, un latte aperto scaduto, il succo d'arancia bevo solo quello, quello almeno non è scaduto. Che cazzo mi dovrei mangiare io, scusami, è proprio la cucina mia questa, regà. Cioè, è l'utile che mi faccio il room tour, perché... Ok, sono sempre avvissuta questa cosa. Non c'è niente da mangiare, zi, cioè va a fare la spesa, che ti devo dire? Cioè... Non capisco. Non capisco io. Madonna che ansia sta casa, oh, cioè... Madonna mia, come ti viene in mente di fare? Sembra la casa... La camera del sesso di 50 sfumature di grigio. Quante ce n'aveva le sfumature? 50, 40, 77, non mi ricordo. Ma dove sta il cibo dentro a sta casa? Mamma mia, oh. Che nervi. Ah, questo c'è un altro barcone, perché? 69. Vabbè. Dove dovrei prendere il cibo io, signore? Eh, solo qua c'è. Io che ti devo dire? Apri! Donna mia, santantissimo. Non si può... Bella... Bella topolona, mamma mia, come sei buona. Grazie mille per i 14 mesi. Non ci sta un cazzo da mangiare in questa casa? Di merda. Ci sono solo le mattonelle. Dove la piglio da mangiare? Glovo, sì? Mi sa che mi conviene, perché... Forse qua... Ah, qua c'è un'altra cucina. No, questo è il bagno. Che è? La cucina. Ma che è? Ma che bagno c'ha? Ma che cos'è? Eh, sì, fallo iniziare il gioco, grida. Che è un attimo? Che ne so io? Fai avere una storia, una trama. Comunque non capisco se sta casa è bella o fa cacare. Probabilmente fa cacare. Senti, Franco, ma le patatine, si ti può? Le patate? Se è casa mia, è casa mia, avevo detto. Prendi le patate, prendi le patate. Prendi le patate. Le patatine. Le patatine sono buone, magna. Magna, nonna, magna. Prendi la patata. Prendi la patata ripiena. Franco, come si prende da mangiare qua? Sempre patate, Navide. Mangio più corbitrati che veramente. Guarda, faccio schifo, al serio. Vi giuro che prima o poi riequilibrerò la mia alimentazione. Alla patata del Games Week. Non mi fa prendere niente da mangiare. E praticamente adesso il gioco finirà perché il personaggio mi mora di fame. Che buona l'acqua che è comunque, ah. Non so cosa fare. Mi ho buttato al barcone. Basta, ho deciso. Basta, ho deciso così. Mi butto, mi butto. Mi butto! Ma non mi fa fare un cazzo, zi? Ma com'è possibile? C'è sta un pacchetto di patate. C'ho fame. C'ho fame. Ma non mi fa prendere nulla. Non mi fa prendere un cazzo. Cioè, non mi fa fare niente. Ma perché i giochi devono essere... Ah, dobbiamo la padella. Ma se ti può? Dai, dai! Mettila! Ma se dovremmo mettere qualcosa? Ah, qua. Fiti un po'. Organic food. Guarda che schifezza. Ma che? E dieci minuti per capire sta cazzata. Who would be knocking on my door at this hour? Ah, non sono andata la porta. Non bussate la porta? No buono, questo non buono. Chi è? Hey honey, can I come in? Eh, tesoro, posso entrare? Ah, Liam, ti ho detto che è finita. Quindi no, non puoi entrare, Liam. Dai, cioè, mica mi puoi lasciare così. Te amo, ti amo, ti amo, ti amo molto di più di qualsiasi altra cosa. Amore, amore mio ti... Ah, come era? No, no, non mi lasciare. Come è la canzone? Valentina, Valentina. È finita, Liam. Quindi vai a casa. Apri la porta! Kate, zio Pero! Non ti aprirò la porta, Liam. Non ti amo più, Liam. Sarai mia di nuovo, ancora. Ci faremo la canzone. Sarai mia di nuovo, ancora. Piccola topolona. Sounds like you walked away, thank God. Sembra che sia andato via. Grazie a Dio. Il cibo dovrebbe essere pronto a quest'ora. Non mi piace con questa sedua, eh. Cioè, lo stalker. Attuale, direi, attuale. Pegni che si spraga tutto o si abbia a fuoco! Io ancora non ho capito che cazzo del tasto devo preme. Premo tutte e due, il tasto sinistro e destro. Ah, così? Che cazzo c'ha... A posto della bocca? Un vulcano che sentire la roba giù delava? Che ha detto? Che ha scritto? Che ha fatto? Ciao, Allegria. Benvenuta, benvenuto. Ma non se la vanno i piatti, se la vanno così. La patella, togliela. Brutta sozza. Che ha detto che c'ha scritto? Ah, di Anna Cagà. Mazza, oh. C'è il colo irridabile questa. Dammi tre parole. Sole, cuore, cacone. What was that? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Hanno rotto una finestra. Hanno rotto la finestra. Merda. 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 Pezzo. Give me another chance, please. Sì, dopo che mi hai fatto il mattone sulla finestra, mi devi ripagare 2000 euro di vetro. Ti do sì una chance. Devi farmi pagare nel coso e non più attaccarci nel culo. I will treat you well and do anything you want. I promise, just one chance is all I ask. That can't be much, too much, can it? So, so Liam. Tu madre, tu sì e tu nonna, Liam. Mi cugino si chiama Liam. Cioè, comunque. Mi dice, dammi un'altra chance, please, per favore. Ti tratterò bene e farò qualsiasi cosa tu voglia. Te lo prometto, te lo giuro. Semplicemente un'altra, solamente un'altra chance è tutto quello che chiedo. Non può essere così tanto, no? Nel senso, non può essere chiedere tanto, no? Cosa del genere. Baci e abbracci Liam. No, no, no. I gonna leave before he does something worse. Scusami, devo assolutamente andare via prima che faccia qualcosa di peggio. Liam, tu madre è una soccola! Te dirò il suo mattone in testa. Ti pian corpo secco, mannaggia. Cioè, ma qual è questo bastardo? Mi ha rotto lo vedro. Tocca andare via, ma non andiamo? Guarda, pezzo di merda. Come se c'è la casa. Chiudi la finestra, fratea. Ah! 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 Mi fanno paura queste cose, ti giuro che la gente è treccata. in casa, non mi fanno venire l'ansia, ti prego! Mi fanno venire l'ansia! No, 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 no! Mi fa venire troppa ansia sta roba! La gente è dentro in casa! No, 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 no! No, non posso! Non posso! Si è stata catturata, prova ancora! Non può entrare! Entra! Non entra! Entra! Come devi portare l'acqua? Entra! D'azitto! Ah! Oh my god! 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 No, raga, questa cosa mi fa? Questa cosa mi fa... Mi fa pulsare il cervello, vi giuro! Mi fa uscire fuori di testa? No, mi fa uscire fuori di testa! No, 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 no! Scusate, gatti, non vorrei... Scusate! I gatti si sono attimo, allora... Dio, raga, no, che... Ah, no, sta roba mi fa troppa ansia! Ma a te sei matta! No, mi fa ansia, raga, non ce la posso fare! Cioè... Non ce la posso fare! Veramente mi fa... Mi devo prendere una caramella! No, vabbè, il... No, ma mi immaginate! Immaginatevi che voi andate in cucina! Eh, non ce la posso fare! Cioè, questo mi fa capire che... Cioè, più forte di me non riesco a non strillare! Non ce la posso fare! Non ce la faccio! Proprio una reazione istintiva! Non ce la faccio! Immaginatevi di stare! No, ma mi mette l'ansia! Mi mette l'ansia questa situazione di ritrovarmi... Dentro casa, questo tipo, nascosto dietro alla cucina! Ma stai scherzando? 9.30 di sera? Chiamala la polizia! Grandpa! Ma come Grandpa? Tu nonno chiami? Che cazzo ti hai fatto, nonno? Vabbè, non ho parole! Ciao, nonno! Ho bisogno del tuo aiuto! Ehi, Kate! Che cosa succede a nonno? Liam ha rotto... È entrato dentro il mio appartamento e... Chase me! Ha cercato di... Boh... Prendermi! Oh mio Dio, è orribile! Ti è tutto a posto? Ti ha fatto del male? Qualcosa del genere? No, sono scappata via! Prima che potesse fare qualsiasi cosa! Ma sono terrorizzata! Eh... Vuoi trovare... Vuoi... Immagino che tu hai bisogno di un posto dove stare per un po'? Sì! Ho una mention about an hour's drive from city... Nonno, ma sei rincoglionito o cosa? Ma scusa, ma sto a scherzare nonno? Cioè... Vabbè... Scusate... Scusate, ma la logica di questa roba... Cioè, chiamo mio nonno perché mi stanno cercando... Cioè, mi stanno... Mi sono fatta male al ginocchio, zio per a... Chiudi sta cazzo di macchina! Mi sono fatta male al ginocchio per scappare da questo coglione in merda! Cioè, io non ho parole, guarda! Mi giuro l'ansia sta roba, l'ansia! That was a close call... Thank God I made it out! Liam won't be able to find me anymore now! Praticamente sta cogliona... I have finally broke... Broken free from that toxic relationship! Praticamente sta cogliona patentata... Ha chiamato il nonno e gli ha detto... Nonno, il mio fidanzato è entrato dentro casa... Mi aveva spaccato il vetro e stava per... Per uccidermi! Mi serve... Ah, ti serve un posto sicuro dove stare? Sì! No, ma non chiamiamo la polizia! No, no, tutto a posto! No, ma non andiamo... Oh no, che cazzo! Ma non andiamo a casa di mi nonno? Al massimo! Almeno non sto da sola! No! Andiamo dentro alla casa enorme di mi nonno... Abbandonata nel cazzo del nullo senza avvertire nessuno! Che qui staremo sicuramente al sicuro! Ma io dico, ma tu te meriti di morire però! Scusami, eh! Tutti i meriti di morire! Cioè, potenziale... Let's have to turn out the flashlight... Ah, pure il flashlight mo' c'è... Oh mio, tira l'albero, vaffanculo! Non ho parole, guarda, veramente! La deficienza, la deficienza! Grandpa said, the key was in the basement! Tu madre is in the basement, mortacci tua! Anzi, mortacci vostra! E' lì grandissimi, mortacci vostra! Cioè, vabbè, era già morta! Ma come gli viene in mente? Cioè, ma come cazzo gli viene in mente? Guarda, 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 guarda! No, ma dimmi che! Una bara? Ecco, mi avevo già preparato la bara mia! Guarda che carini che sono stati! Guarda che gentile è di aver preparato la bara! Guarda che carucci, veramente! Senza perdere tempo! La luce flippa pure! Ma il nonno che fa? Il cassa mortaro? Cioè... A questo punto... Insomma, il nonno che cazzo... Scusatemi... Scusatemi, ma il nonno che lavoro fa esattamente? Cioè, che cos'è? Un necrofilo, il nonno? Che cazzo è? Cioè, fa le cose strane che i morti? Non lo so io! Mi sembra un po' eccessivo! Non lo so! Ma ora si spiega perché è così... E ci ha consigliato questa cosa inutile di andare a morire qua! Forse ci vuole morti! Non lo so! Ma se va a chiusa sta cosa? Vabbè, forse vede sta roba e si spaventa e se ne va! Mi nonno, un cazzo un culo! Bello! Di sattento e t'appenna il chiodo, eh! Tipo non aprite quella porta, altro che cazzo! Ah, ora sì che siamo al sicuro! Oh, che bello! Quando è bedroom? Fai legge prima! Perché deve sparire? Perché? Ah! Vedi? Una cassaforte proprio! Una cassaforte! Ah, si apre così facilmente la porta! Ma sì, ma tanto chi ci deve mai essere? Il problema c'è? Non c'è mica il mio ragazzo pazzo che vuole uccidermi in giro? No, no! È tutto a posto! Guarda! Ah, che bella casa! Mi sento proprio al sicuro! Grazie, Erika! Grazie mille! Che nervoso queste robe! Sfere di luci a porvere, no? In ogni caso non è bello! Ma mia nonna c'ha la sta cosa! Vabbè, è la casa del nonno! Il frigo chiaramente è vodo perché giustamente è il crocifisso che ci protegge il armale! Non c'è sta nient'altro! La legna, la cosa fresca! Vabbè, perfetto! Mi giuro, ho dato una botta! Una botta al ginocchio per saltare da quel tizio che mi era apparso dietro la macchina, accanto alla macchina! Che non avete idea, guarda! Ma guarda che cazzo di casa! Il house! Grazie, Mike, per i nove mesoni! Grazie, tesoro! Grazie mille! Grazie infinite! Cioè, boh, io non mi capacito, davvero! Ha detto che do Anna in camera da letto, vede? Un bel cessetto! Fantastico! Mi chiedo dove moriremo! Oh, questa porta è retro, sì! Chiudi sta cazzo! Ma un po' chiude a chiave queste porte questa, mamma mia che ansia! Zio Pera, ma come si fa? Uomo sua! Zio Peroni! Accendi tutte le luci! E non spegne il cazzo, non spegne! Ah, nonno, ma c'è il divano sbragato! Nessun'area l'ha cambiato questo divano, così! Non è minimo che c'è sta... Il coglione di Liam sotto! Cioè, Dio è leggermente sbracheto! Cioè, si è seduto nonno! Con quel culo... Si è seduta nonna col culone! E il culone di nonna l'ha sfonnato! Vabbè! Non so cosa dire, amici! Questa è la camera da letto dove moriremo? Wow! Non vedevo l'ora di vederla, guarda, sul serio! Accogliente! Che dire, guarda! Veramente! Cosa c'è uno girato? Girato l'esorcista qua? Ah, sì, sì! Me lo ricordo bene! Questa è la scena dove si gira la testa alla protagonista! Sì, sì! È proprio questa! Che bello! Bello, sì! Vai a dormire! Che sai? Adesso sei in un posto sicuro! Sei veramente messa bene! Rolo, che sta a fare? Sì, adesso guarda, Rolo che... Che è? È giorno? Oh, amore, quanto siete carini tutti vicini! I better go check the door! It could be grandpa who is out to visit me! Oh, ma è giorno! Ma guarda che bel posto, nonno, che ciao! Oh, ma guarda che bella casa, nonno! Veramente è una casa da... Veramente incredibile! Mi sento un po', regina! Elisa de Rivombrosa, mi sento un po'. Prendiamo la macchina e andiamo via? Che dici? Che dici? Ce ne andiamo? Non c'è nessuno, fratello! Che famo? Ha tutto un altro fascino comunque, così, eh? Devo dire no! Che ha detto? Ah, c'è il foglio davanti alla porta! Dove sta sto foglio? Dove sta? C'è una lettera? Ma in dove? Mi sono ispirati al film, quello che stava su Netflix, come si chiamava? Vi ricordate? Vi ricordate? Cioè, praticamente adesso abbiamo due stalker invece che uno? Beh, interessante! Veramente interessante! Caro residente, nuovo residente di questa mansione, mansion, non so com'è. Sono il precedente proprietario di questa mansione e tu sei la persona che stavo proprio che stavo cercando. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. The Watcher, bravi! Spero di vederti qui in giro per un bel po'. I'm sure you will get along just fine. Non ho capito questa cosa, I will be watching, ti osserverò. What kind of joke is this? Che tipo di scherzo è questo? Well, I better get going to the convenience store now before it get darks. Ah, ci rifamo col convenience store! A ridanghe danghe col convenience store! Ah, questa è una cosa già vista! Il convenience store, noi ci stiamo a un quarto d'ora! Non ho parole, veramente. Spero che non sarà difficile come... Eh, chi mi segue da qualche mese lo sa. Eccoci qua. Ma rimanemoce! Press tab to look the shopping list. Mamma mia, regà, comunque è scopiazzatissimo. Ah, questo sarebbe il coso? Scusami un attimo, ma sto negozio sta esattamente dove? In quale strada? Cioè, nel mezzo del cazzo del nulla! Ma com'è posizionato sto posto? Cioè, è stato droppato così! Dove ha preso le scarpe il signore non lo so. Chi è questui? Mi pare quello di Stranger Things. Del padre di Eleven. Signore, c'è un problema che le porte comunque. Non funziona tanto bene, guarda. Ma vedi? Cioè, non posso veramente avvicinarmi. Guarda, c'è un problema, impazziscono. O c'è una, non lo so, c'è un fantasma. Oppure c'è un attimo un problema di sensibilità alle porte, il sensore. Vabbè, andiamo a vedere che mi serve. Allora, canned food. Ah, una canned sicuramente è quello di cui ho bisogno. Vabbè, ma c'è scritto... Ma se potremmo aprire un carello? Aspetta. Butta sta cosa. Oh mio, desiderio di aperte le porte... Guarda, veramente. But! Allora. Io sappiamo quando ha finito così. Sì, fair to fado. Sappiamo quando ha finito così. Ok, possiamo anche fare così. Soda. Ma il signore te l'ha nato? Oh no, aspetta, signore, vi devo fare una domanda. Devo fare una domanda, signore, non se ne vada! Questo pare tipo il tipico furgoncino da rapidore dei bambini, comunque. Non so se... Se mi spiego. Vabbè. Soda e botti disegnate? Non c'è una soda? Eccola la soda. Poi... Milk cereal. Ma il latte... Ah, il latte così senza frigo. Quello proprio che scade nel 2078. Cereal, cereali... Bella vista. Il vino mi sembra un'ottima idea. Il vino mi sembra la cosa più giusta da mettere in liste. Perfetto. Siamo pronti per andare a morire. Bruce Willis, ma puoi far conto, per favore? Hello beautiful, is that all? Sì, tutto a posto, sì. Yes. Ah, perfetto. Il totale è 28 euro. Ma l'immortace. Caro solo di convenience. Dove dei, magari, spese di tutti i furgoni che fanno avanti e dietro dal centro, probabilmente. Il vino con latte, sì, è un nuovo cocktail. Grazie per aver comprato qui. Also, I can tell you... I can tell you are new to the area. How long are you staying for? Fatti cazzi tua, no problem. I'm sure yet, not too long. Non così tanto. Ah, bene, bene. Buona giornata. And here are you... Ed ecco le tue cose. Grazie, anche a te. Grazie, Strilli, grazie mille per... 12 mesi, 12 mesi, grazie mille. Una No Codoy Ecodox. Qual è la macchina mia? Che po' è normale. You know, a young, beautiful lady like you shouldn't be out all alone like this. Ma tu, che cazzo vuoi con sta faccia da faciolo? Che mi corri avanti, incontro e mi dici, sai, una giovane e bella ragazza come te non dovrebbe andare in giro da sola. Manco te con sta faccia da coglione. E invece ce vai, guarda un po'. Che cazzo vuoi? I do have some wishes, but I think it's best to remain spoken. Avrei dei desideri, ma credo sia meglio che rimangano non detti. Io credo sia meglio che tu ciri i tuoi cazzo di tacchi e il tuo culo di merda e te ne vado a fanculo dalla mia vista, per favore. Grazie. Be careful and don't let me catch you all alone again. Ma sto scherzando questo? Ma sto scherzando? Ma prendi quella bottiglia e spaccagliela in faccia sto coglione con la faccia da faciolo. Attenta e non farmi ti trovare da sola di nuovo. Excuse me? Excuse me? Testa di merda? Testa a faciolo di soia? Non ho bisogno dei tuoi avvertimenti. Rispetta il mio spazio e stai lontano. Solo. Solo, solo. Solo questo gli ha detto, veramente. Ma poi c'è chi dovrebbe essere sto faciolone? Ma che ne so? Ma questo ha sul crano tutti. Ma chi è? Naomi Campbell. Non lo so, non l'ho vista, ma... Mi sembra... E' il tizio che dice che lo guarda. E' il ragazzo. E' mo' questo che corre contro a satanato un grifato. Cioè, mi sembra un po' eccessivo, no? Almeno questo si è nascosto dentro casa, guarda. Ma guarda la... L'ansia di Gesù. Unknown number. Benvenuto a casa. You look beautiful in the store today. No, zi, non la posso fare. Eri veramente bella nello store oggi. Non vedo l'ora di vederti di nuovo. Cioè, qualcuno aveva... Aveva scritto, ma questo è horror? Cioè, questo è horror. Questo è il vero horror, cazzo. Certo. Certo. La porta è un po'? Sta scherzando. Minore di tre. C'è cazzo se nascondemo. I'm soon here. Oh, what if I'm already here? Che famo? Cioè, che sementamo? No, raga, questa è l'ansia pura. Cioè, questo veramente so. Guarda la muffa qua dentro. Non so se è peggio. Che cazzo faccio? I'm here? Beh, da per te... Io c'ho chiusa la porta. Ma invece di usare il telefono per chattare questo store, che mi ha poi chiamare 118? Ma ce la fa il 911? Che ne so? Che... Manda un messaggio a qualcuno! Non ce la fa. Che faccio? Oh, santo cielo. Siamo fottute, cioè. Non è che c'è tanto altro da fare. I'm here. Non mi pare che stai qua. Non mi pare proprio che stai qua. Io non apro la porta, rimango qua. I'm here, io pure. E mo' che famo? Due. Grazie, Lorenze! C'è, Luca, tu? Che faccio? Mi sa che non c'è... Se sto qua non mi prende. Fa il culo. Cioè, ho rotto il gioco. Let's go! Si sente il battito, ma... Non significa nulla. Non mi fa fare niente. Sono qui, ma non entra. Non capisco. Vanevani, grazie per gli otto mesi! Grazie, tesoro! Io, cioè... Fossi lei, rimarrei qua chiusa e chiamerei la polizia? Non lo so. Che faccio? Vado via? Martizio mi ha seguito. Cioè, il bagno è safe zone, quindi. Fatemi capire. Ma che cazzo è che andrebbe dentro? Si spenga la torcia, non siete una sega, sì. Non capisco. Che cazzo devo da fare? Ha bussato la porta? Scusate, ma non posso chiamare qualcuno? Minonno? O strunzo di minonno? Faculona di minonna? Non posso chiamare qualcuno? Cioè, ma è possibile che questa tizia sia così incapace di vivere? Di sopravvivere alle cose? Cioè, non lo so. Non mi fa neanche chiudere. Non puoi uscire? Non puoi entrare? È questo che vale. Usciamo? Ma questo c'è biglia, fratella? Non fate un po' di mucci? Quindi c'è. Dove sta sto pezzo di minonno? Che devo fa'? Cioè, non capisco. Mi dice sono qui, sono qui, ma non ci sta. Che ansia, porco due. Ma che cazzo c'ha? Asciugamani questo. Mi sta veramente facendo unirante. Ah, ho paura, ti prego. Smorza questa... Niente, non c'è. Ho bugato il gioco, è finito. Non c'è più nulla da fare. Non c'è. Ha pure scassato il termosifone, va. Ma così me lo puoi riscaldare. Lo stalker non c'è. È andato via. Lo stalker non è più cosa mia. E tu che sei qui e mi chiedi perché lo stalker è proprio qui dietro a me. Mannaggia, quella paletta ancora non si trova. Non capisco dove sia. Se vuoi andertene adesso o no. Se vuoi però fa lo stesso. Ora no. Se volevi morire potevi dirmelo. Almeno ti faccio... The door won't budge. Ho capito, ma cosa si è buggato? Ho rotto pure questo. Di giocone. There is new resident con titolation on settinglingling. Settling in. You may believe this mansion is your refuge but every step you take reveals a deep area. Sven is your choice. Every morning, Sven is an available Sven. Io che faccio? Io che faccio? Faccio così? No? No? Ah, non siamo ancora arrivati a questo punto? Ah, non abbiamo ancora deciso di andarcene? Ah! Ah, vogliamo morire qui? Ah, non avevo capito. Ok, ok, scusa. Non avevo capito. Perfetto, va bene. Non mi era ancora chiaro. Continua. Sì. If you enjoyed it and would like to support me please consider a wish list Ah, c'è, sicuramente lo giocherò questo gioco, sì, sì. Questa era una demo, ragazzi, quindi il gioco finisce qua. Ma sicuramente avremo modo di scoprire come continua questa trama entusiasmante ricca di significato e scelte sagge che tutti noi sicuramente faremmo. Veramente. Grazie. Grazie.